Terzo modo per avere evidenza dei duplicati che appartengono sia alla lista 1 che alla lista 2 abbiamo visto una formula di Excel e come farlo anche con Power Query oggi lo facciamo con la formattazione condizionale per fare questo basterà andare in alto sul menu Home poi andiamo a destra sulla formattazione condizionale e premiamo su gestisci regole a questo punto qui apparirà questo box facciamo nuova regola e sulle regole che ci vengono proposte facciamo formata solo i valori univoci o duplicati qui diamo il duplicato diamo praticamente un formato, ad esempio mettiamo lo sfondo verde e confermiamo dopodiché dovremo praticamente dire in che area questa regola deve andare a funzionare quindi si applica A, togliamo questa cosa e andiamo a selezionare praticamente la lista 1 poi facciamo un punto e virgola così potremo selezionare anche un'altra area che è appartenente anche a un altro foglio quindi col punto e virgola diamo anche la seconda area e dopo semplicemente andiamo a dare la conferma ecco che così con una semplice formula condizionale abbiamo evidenza di tutti i duplicati che appartengono sia alla lista 1 che alla lista 2 poi Grazie a tutti.